Niente, allora vorrei mandare un messaggio veramente accolato, di cuore, di cuore al nostro sindaco Luigi De Magistrisi, al presidente della regione campanica di Celso De Luca. Allora, Gigi, c'è sì, ma se può apparare, ma vi sembra adesso il momento di sapere che Samaneri fa cane e gatto. Cioè, questo è il momento in cui noi che ci sentiamo veramente, cioè, siamo attenglippati, cioè, io, c'è un meglio, un meglio essere in umani. Guardate, a me stanno nascendo pure i spogli, i brufoli, l'acne giovanile, i davicari. Cioè, non è il momento di litigare, noi abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno della protezione del nostro sindaco di Napoli, presidente della regione, diciamo, ma ci stanno loro e voi lo appisciate di questa maniera. Ma io, per l'amor di Dio, lo metto in dubbio, avrete le vostre ragioni, ognuna che so io. Poi, come dicevano le mamme di una volta, affettuosamente, si intende, si vengono, vi siete noi maruzzi. E chi è napoletano sa come continua, ma non potete stare appisciare. Cioè, noi, voi immaginate che siete il nostro papà e la nostra mamma, i miei figli, o per l'amor di Dio, potete pure rispattare, cioè, non andate d'accordo, state divorzando, ma, come si dice, si mantiene una barra pascesa per i figli. Quindi, il padre, non lo sapete, ma, che ne so, il padre è che è un cazzo, il padre è che... e mi chiede, 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 però, non andate a fare così, non ci fate tranquilli. Allora, come si è da fare? Chi se non lo vedete, particolare, cioè, per adesso, apparatemo, apparatemo, poi, poi si vede, però, poi si fichette un pulito, ma neanche ce ne ho fotte, però, adesso, io posso anche, e posso anche mettermi a disposizione, cioè, se volete, faccio io da, diciamo, sanzale, come dice, ma, c'era, ci vediamo, nella casa mia mamma e nella casa mia papà, a metà strada, cioè, che ne so, tra Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, Santa Lucia, Ciorino, a Piazza di Ressi e Trento, a Gambrinus, che, tra l'altro, aveva anche un valore simbolico e enorme, no, perché ha dovuto chiudere un bar, un locale storico di Napoli, poi ci maravivano di un nato, e ha parato, cioè, faccio io da bacio, metto in mezzo, a baciare, a baciare, a baciare, però, ma disinfettate, ma disinfetti, urdino, ad urdino, urdino, mannaggia, diavoletta, che ci ha fatto, lì, che, appara, ja, ja, ma bene, ja, ma bene, appara, ma buon. Dammi Piazza, No ma necessità la piccadade Sono una diversa luna d'amorata